Angrigento, bilancio, giunta, consiglio comunale, ricorso alla cassa, depositi e prestiti. Ascoltiamo in proposito il consigliere comunale di voce siciliana Alessandro Patti. Consigliere Alessandro Patti, ha partecipato anche lei ai tavoli di confronto attivati dal sindaco Marco Zambuto nel merito della predisposizione del bilancio di previsione atteso in consiglio comunale? Sì, certo, e mi lasci dire anche con un pizzico di soddisfazione che a quanto pare quella lettera aperta che avevo inviato ai consiglieri non più di venti giorni fa ha comunque prodotto degli effetti perché quantomeno anche dietro sollecitazione del presidente del consiglio comunale si è aperto questo momento di confronto con l'amministrazione che richiedevamo da un anno per la verità perché a fronte della latitanza amministrativa che abbiamo registrato in questi mesi abbiamo sfornato una serie infinita di atti di indirizzo, di emozioni che non hanno trovato minimamente il riscontro ed era il momento che questo accadesse o che quantomeno se ne parlasse. È pur vero che ci accingiamo a vivere tre momenti fondamentali per la vita amministrativa del nostro ente intanto il sindaco dovrà venire in consiglio comunale per esplicare la relazione annuale del suo operato e dopodiché dobbiamo andare ad approvare o comunque a valutare, a visitare il rendiconto finanziario del 2012 e soprattutto il bilancio 2013. Evidentemente il sindaco è in un momento di grande difficoltà e quantomeno in questo momento vanno nitidamente delineandosi questi due blocchi in consiglio comunale la maggioranza e l'opposizione, una maggioranza per la verità cementificata con la saliva con la promessa dei posti in giunta un'opposizione variopinta dove oggi ritroviamo anche chi un anno fa fu principale fautore della rielezione di Zambuto e mi auguro che questo ravvedimento sia fondato su fatti amministrativi non solo su diatribe di carattere politico. Per quanto riguarda la vicenda del bilancio di previsione è arrivato il momento di dire che la situazione del comune di Grigento è veramente drammatica perché non si riesce a fare quadrare i conti e questa cosa il sindaco dovrebbe dirla una buona volta per tutte e dovrebbe dirla con estrema chiarezza. Ancora una volta il consiglio comunale verrà chiamato ad un altro grande gesto di responsabilità perché si prevede un bilancio di lacrime e sangue presentato come al solito come una grande opportunità al momento della svolta, in particolare mi riferisco per esempio al prestito all'anticipazione che dovrebbe essere corrisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ecco infatti una richiesta di prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per circa 16 milioni di euro se non erro. Eh, allora parliamo dei numeri. Allora nel momento della richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti il comune di Grigento dichiara di avere debiti e pregressi per 16 milioni arrotti di euro. A fronte di questo la Cassa Depositi e Prestiti dice di essere pronta a elargirci 9 milioni e 900 mila euro quindi resterebbero comunque scoperti 6 milioni e coci di euro che ci esporrebbero a esecuzioni, a pignoramenti. Nonostante questo il Sindaco dice che si tratta di una grande opportunità perché potremmo comunque andare a ripienare debiti. Allora abbiamo posto delle domande al Sindaco, io a questo punto le voglio partecipare anche alla città e a questo punto pretendo anche delle risposte perché è bene sapere innanzitutto quali sono questi debiti perché ho il terribile timore che qui si voglia curare il malato che ha una febbre da cravallo ma manco con i panicelli caldi, con la carta igienica imbevuta di acqua calda che finisce per sfaldarsi. Quali sono questi debiti? Perché non vorrei che andiamo a eliminare la febbre e lasciamo la causa dei debiti. Faccio un esempio su tutti, tanto per intenderci. Le buche, continuiamo a pagare, risaniamo i debiti e poi le buche restano lì e continuano a produrre debiti. Ma soprattutto rimangono i margini per politiche di investimento quando tutte le nostre energie vengono spese per andare a ripienare i debiti? Io ho posto una domanda molto semplice al Sindaco e ho ricevuto una risposta disarmante. Abbiamo chiesto scusi, un prestito da 10 milioni di euro da restituire in 30 anni, facendo un conto alla femminina, significa dover andare a versare 500 mila euro di rata annua. Dove prendiamo questi soldi, signor Sindaco? La risposta disarmante è stata, vabbè, a come ghie li troviamo. Allora, a fronte di cotanta approssimazione, io non ho la benché minima intenzione di prestare il fianco a operazioni del genere. Quindi, se è vero che il Sindaco si appresta a effettuare l'ennesimo rimpasto in Giunta, sono convinto che questo avverrà non semplicemente per sostituire Tizio Concaio, ma sono sicuro che ci sarà una piattaforma programmatica condivisa, che ci saranno delle idee, dei progetti che questi nuovi assessori vorranno andare a tradurre in azioni concrete. Allora che il Sindaco venga in Consiglio Comunale e ci dica seriamente cosa vuole fare della città, perché altrimenti l'unica vera seria alternativa per venire fuori da questo tunnel è quella di andare a dichiarare il predisesto finanziario.